Il GIP del Tribunale di Bologna Domenico Panza ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Ivan Rudic, l'autotrasportatore servo di 34 anni, fermato giovedì dopo il trovamento del corpo senza vita di consulato ingenuo, 42 anni. Il cadavere è stato rinvenuto all'atto della SP26 tra Cereglio e Tolè mercoledì pomeriggio, con segni sul corpo che secondo i carabinieri potevano essere stati provocati da una violenta aggressione. Dopo ore di indagini serrate, immunitario del nucleo operativo e della compagnia di Vergato hanno stretto il cerchio intorno ai due amici che avevano trascorso la serata con ingenuo il 34enne e un cinquantenne romeno mi ha inuto a Popeye, per cui il GIP non ha convalidato il fermo e non ha disposto alcuna misura cautelare. Al momento rimane indagato solo per occultamento di cadavere. In sede di udienza, l'uomo si è professato innocente. Decisioni, quelle di questa mattina, potrebbero cambiare la ricostruzione del delitto e di quanto è accaduto. Allo Stato si aggrava quindi la posizione del 34enne a cui era in uso l'auto, all'interno della quale sono state rinvenute tracce ematiche, sulle quali sono al lavoro gli specialisti della sezione Investigazioni Scientifiche e i RIS di Parma. Quando saranno pronti i risultati, gli investigatori avranno un quadro più definito. Accertamente in corso anche sulle tracce ematiche rinvenute davanti a casa del cinquantenne, consolato ingenuo lunedì sera, trascorse la serata con i due amici. Dopo qualche bicchieri in un bar è scopiato una lite e poi, una volta che si sono riappacificati, secondo quanto è emerso dalle indagini, i tre sono andati via insieme. Del 42enne si sono perse le tracce fino a mercoledì, quando è stato trovato il corpo senza vita in una scarpata.